Eccoci assieme, buon pomeriggio cari amici di Ciacomo, ben ritrovati con l'approfondimento e direi che oggi più che mai l'emergenza sanitaria ancora al centro dell'attenzione, non si placano le proteste, le polemiche per la decisione del governo di mettere la Lombardia in zona rossa, zona rossa che scatterà poi da domenica prossima su tutto il territorio della nostra provincia. Cercheremo di approfondire vari aspetti magari anche nella giornata di domani se ci sarà la possibilità con il Presidente del Consiglio regionale Fermi che già ieri ha cercato di esaminare un po' la situazione ma in realtà quello che si pensava ieri, la zona arancione è stata oggi superata dall'inasprimento dunque dei provvedimenti. Zona rossa, limitazioni per i negozi, per le attività, chiusi i mercati e ovviamente chiusi sostanzialmente anche bar e ristoranti che potranno fare l'asporto fino alle 18. Vediamo com'è la situazione in Inghilterra che credo che sia certamente abbastanza simile perché anche lì c'è il lockdown e anche lì purtroppo l'emergenza virus si fa sentire. Siamo collegati via Skype con la nostra amica lettrice Antonella Roletto che ritroviamo con piacere, Comasca che vive lì in Inghilterra a Londra. Antonella, buon pomeriggio intanto. Salve, buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori di Ciao Como. Un caro saluto a te Antonella. Allora dicevo che qui da noi la situazione nelle ultime ore si è un po' più complicata, è diventata zona rossa. In Inghilterra com'è la situazione? Sentiamo notizie. Da noi è già stata complicata dal periodo natalizio, fine anno. Infatti siamo entrati in lockdown ormai da qualche settimana e purtroppo Londra è una delle zone più colpite dovuta, non so, avrete sentito anche a questo nuovo ceppo del virus che appunto sta allarmando un po' tutti al momento. Da noi i casi hanno superato, sono arrivati anche 60.000 casi al giorno e adesso al momento abbiamo avuto 4 giorni di tregua che si sono limitati sotto i 50.000 e quindi ho appena letto che oggi sono risaliti a 54.000 casi al giorno. Quindi la situazione non è delle più rose. Dicono che si hanno anche gli effetti di Natale, che purtroppo non so se è successo anche in Italia, qui da noi nonostante il lockdown tante persone si sono incontrate durante quel periodo. E allora qualcuno sicuramente si sarà incontrato di sicuro perché poi da noi ci sono state delle concessioni. Sì, poi ecco effettivamente ci sono abbastanza similitudini, no Antonella, con quello che ci hai raccontato tu lì dall'Inghilterra e a quello che è successo sostanzialmente anche da noi. Moltissimi che ci stanno seguendo in diretta radio, c'è anche la diretta Facebook appunto, ci salutano, ti salutano cara Antonella, Samuele, Dario, Roberto, dice Samuele tenete forte, tenete duro, forza Lombardia. Grazie, Samuele, lui è in Toscana e sicuramente è messa meglio la Toscana da questo punto di vista. Andrea, ciao, buona serata a Selly, Lorenzo, poi Ada e poi ancora Adriana, Elena e quanta gente. Raffaella, buonasera. Poi un saluto da Alessandra, la nostra amica Comasca, anche lei come te Antonella che ci ha l'altro giorno relazionato da Francoforte, la situazione anche in Germania, anche lì, situazione molto molto complicata e poi Rodolfo e poi Nonno Edo e poi ancora anche Michela. Selly, buonasera, ciao. Zona rossa, regione Lombardia, 2.500 contagi Covid su 10.000 abitanti, ma voi li sapete fare i conti? Vabbè, comunque prendiamo atto anche di Ettore che ovviamente ha qualche esternazione un po' più particolare. Va bene, Ettore, noi ci limitiamo a quelle che sono la cronaca, poi i commenti ovviamente li lascio fare a voi. Mi raccomando, lo dico a Ettore, ma lo dico anche agli altri, sempre però con rispetto e con appunto massimo rispetto anche delle altrui opinioni, perché altrimenti poi siamo costretti ad intervenire. Cara Antonella, allora, beh, come vedi la situazione anche qui da noi sta diventando particolarmente calda, ecco, è un po' esplosiva. Negozi, attività, tutto è chiuso anche lì da voi in Inghilterra? Sì, 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 tutto è chiuso, logicamente solo i supermercati, quindi i negozi di cose essenziali sono aperte, e tutto il resto è chiuso, ristoranti chiusi, bar chiusi, pub chiusi, le scuole sono chiuse, non hanno riaperto dopo il Natale, infatti stiamo facendo la DAD, come chiamate voi, o la Learning Online da noi, e io infatti lavoro in una scuola, non so se ricordi, però io devo lavorare perché è aperta per i bambini dei key workers, quindi ci sono numeri chiusi proprio essenziali di bambini. Sì, anche qui Antonella in questo momento si fa un gran parlare in queste ore delle scuole, ovviamente, di com'è la situazione delle scuole, moltissimi erano già pronti, anche oggi alcuni ragazzi hanno manifestato per chiedere di tornare in presenza, e in realtà questa zona rossa di fatto complica un po' tutto assolutamente, mi pare che però anche da voi in Inghilterra non è che sia una situazione anche dal punto di vista scolastico molto molto diversa da quella che c'è in Italia. Sì, esatto, infatti la scuola non ha proprio riaperto, abbiamo iniziato quindi online, io vado appunto perché sono appunto con questi bambini che purtroppo non hanno, non possono stare a casa, che sono appunto bambini vulnerabili o bambini appunto che hanno genitori che lavorano quindi in prima linea e magari non hanno dove andare, però il resto lavorano a casa, ma nonostante tutto nella mia scuola abbiamo una risposta molto positiva del learning online, della scuola online, quindi è iniziata abbastanza bene. E qui invece sai moltissimi, anche oggi abbiamo sentito molti ragazzi, insomma contestano un po' perché sono ormai mesi, mesi, mesi che effettivamente anche loro si devono un po' rimettere in gioco con questa, come hai detto tu, learning online in Inghilterra, in nostro caso la didattica a distanza, sostanzialmente non cambia assolutamente nulla. Di fatto mi pare di capire che anche lì in Inghilterra è una situazione insomma di quelle che non si può, non si può sottovalutare assolutamente. Lì Antonella abbiamo sentito a volte un po' anche le decisioni del governo con il premier, prima dire una cosa poi dirne un'altra, insomma com'è il sentimento popolare? Sì, soprattutto col governo al momento ci sono appunto molte discordanze, la gente è stanca delle decisioni ritardate del premier appunto di Boris Johnson perché ha aspettato sempre sia nel primo lockdown che nel secondo lockdown e adesso, ha aspettato troppo tardi quando già si sapeva che bisognava bloccare il paese, prima per evitare quindi quello che è successo poi a Natale e poi quello che sta succedendo adesso, quindi la gente è stanca come in Italia però purtroppo sappiamo che al momento è necessaria questa cosa se vogliamo riuscire a tirarcene fuori diciamo. Tra l'altro mi chiedo, ecco infatti adesso a proposito c'è i nostri amici che ci stanno seguendo tantissimi anche questa sera, ci stanno chiedendo anche dei vaccini, adesso poi arrivo anche a questo, intanto scusa con quello che sono per salutare ancora anche Michela, Rosa, Annalisa che dice good evening e poi Calogero e poi Francesca che ci scrive dalla Scozia. Ciao Francesca, un saluto e un abbraccio anche a te dalla Scozia, un'altra comasca quindi evidentemente come te Antonella e come Alessandra dall'estero, mia cuginetta a Londra, Annalisa e poi Elena che si rivolge e dice perché chiamate, no ma lascia stare Elena, lasciamo perdere, io ho detto prima ho chiesto solo di esprimere le opinioni, ognuno le può dire quello che vuole, può prendersela ovviamente con i giornalisti, tanto è facile dire che è sempre colpa dei giornalisti, va bene, non è un problema mio, quella è l'unica cosa che ho chiesto prima e lo ribadisco ancora, però il rispetto perché se uno deve esprimere le opinioni le esprime in maniera corretta e comunque educata e civile. Ecco scusami Antonella ma purtroppo qui c'è qualcuno che poi a volte esagera. Ciao Ada, ecco Ada ci chiede, da voi i vaccini Antonella, com'è la situazione? Sì hanno iniziato a vaccinare da noi le persone oltre gli 80 anni, chi lavora in case di cura di persone appunto anziane, le persone anziane che vivono in case di cura, chi lavora agli ospedali e questo appunto è il tutto. Al momento parlano che nei mesi prossimi riusciranno a ampliare le vaccinazioni magari agli over 60 o gli over 50 dipende appunto poi da come riusciranno perché hanno i numeri, le persone da vaccinare qui in Inghilterra sono tanti milioni e al momento sembra che tutti reagiscano bene, quindi speriamo che questa cosa sia più presto. Ok perfetto, allora sentiamo ancora… Quindi abbiamo anche noi tre vaccini, da noi abbiamo tre vaccini, non so se come da voi che sono stati appunto inseriti in Inghilterra il Pfizer e l'Oxford. Esatto, finora ne abbiamo due, noi il famoso appunto quello della Pfizer che va conservato a temperature molto molto basse, è arrivato anche il vaccino di Moderna in attesa di averne altri che arriveranno nelle prossime settimane, prossimi mesi. Ecco al momento in Italia la situazione è questa. Tieni duro dice Marisa Antonella non esporti troppo, Emilia dice che la cognata che abita a Londra ha 78 anni ed è stata vaccinata oggi, quindi una testimonianza anche proprio indiretta insomma che comunque anche lì si sta facendo qualcosa. Clara, ciao Marco, purtroppo la zona rossa peggiora la situazione? Certo è peggiorata, assolutamente sì, da noi questa situazione che insomma non ci lascia assolutamente tranquilli, soprattutto perché le ripercussioni sono anche dal punto di vista sociale. Ecco Antonella un'altra cosa che mi interessa sapere è come reagiscono i commercianti, qui da noi c'è come avrai magari sentito, rabbia, esasperazione, proteste, come reagiscono i commercianti in Inghilterra perché anche lì immagino duramente colpiti dal lockdown di Boris Johnson. Sì sì, devo dirti che tanti commercianti appunto si sono adeguati un pochino, qui possono fare il take away delivery, quindi si può comprare il cibo da sporto. Ecco, ma lo fanno gli inglesi? Sì sì sì, qua si usa, è molto 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 comune, quindi si sono adattati, tanti diciamo si sono riusciti ad adattare a diventare quindi ristoranti da sporto. Da sporto, sì sì infatti. Per esempio c'è un ristorante italiano qui a Crystal Palace dove lavoro io, di origine sarda e loro praticamente hanno diciamo fatto diventare il loro ristorante una panetteria da sporto diciamo italiana. Giustamente da buoni italiani si sono reinventati, bravi. Reinventati il lavoro, quindi sì logicamente non sono felici però stanno cercando di riuscire a lavorare al meglio il più possibile, quindi poi ci sono anche gli aiuti ancora del governo per quindi tanti commercianti, quindi c'è anche ancora un po' un aiuto economico diciamo per loro. Ecco c'è un aiuto economico da parte del governo, sì ovviamente. Sì 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 c'è ancora, logicamente non è il 100% però può arrivare all'80% del salario quindi anche di tutti i negozi, quindi persone che lavoravano commesse, commessi che lavoravano in un negozio, stanno ottenendo diciamo questo tipo di supporto. Ecco infatti Elena che ci sta seguendo in diretta a Facebook ci ha scritto e ci scrive come sono gli aiuti in Inghilterra, non so se vuoi incrementare quello che hai già detto in parte però Antonella hai già detto come sono gli aiuti, si arriva quasi all'80% dicevi e mediamente che tu sappia da quanto ho potuto sapere i tempi di erogazione diciamo di questi aiuti come sono lì in Inghilterra, come da noi, lunghi? No no sono giusti perché hanno già iniziato quindi dal primo lockdown quindi stanno continuando quindi è una situazione che hanno già evoluto da allora e non hanno avuto diciamo i problemi che avete avuto voi in Italia col problemi appunto delle vostre supporti. Eh sì esattamente, ok quindi allora saluti anche a Tiziano, a Lorenza che giustamente si sofferma ancora su questa situazione che da noi c'è, dice pazzesco dopo un anno essere ancora fermi qualcosa non ha funzionato, un saluto dalla Sicilia dall'amico Calogero e Alda ci chiede per i diversamente abili com'è con la situazione anche lì per i vaccini, anche loro immagino Antonella, saranno tra i primi giusti? Sì 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 sì, una delle categorie che forse non vi ho detto sono le persone appunto con problemi di salute eccetera vengono appunto, sono quelli che vengono vaccinati quindi un'altra delle categorie che è compresa tra le persone che stanno vaccinando al momento quindi logicamente chi ha problemi, malattie immunitarie eccetera sono i primi a essere a venire offerti appunto il vaccino. Ok perfetto, in Scozia dice Francesca è più difficile e allora Francesca io ne approfitto della nostra diretta Facebook e ovviamente ti ringrazio, magari scrivici sulla nostra messaggistica di Facebook appunto Messenger e così magari ci mettiamo d'accordo nei prossimi giorni magari chiamiamo anche la Scozia che non è molto distante dall'Inghilteria esatto però poi possiamo sentire anche la situazione in Scozia che in effetti dice è un po' più difficile poi ci saluta poi dunque la nostra amica da Nesso, la nostra amica Ausilia, ciao Benito da Fuerteventura ci sta guardando quindi da molto lontano anche lui e poi anche la nostra amica Ada. Senti allora per chiudere cara Antonella, una comasca che vive all'estero, ti manca un po' la città anche se mi dicevi Brianzola eh, Brianzola sì sì, va bene certo, no dicevo ti manca un po' comunque la Brianza, il territorio lariano e mi dicevi che ormai sono parecchi mesi che non metti più piede qua da noi in Italia? Sì 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 no tantissimo perché io appunto lavorando in una scuola e siccome noi abbiamo le vacanze ogni mezzo trimestre, ogni sei settimane riuscivo sempre a fare un salto in Italia, a trovare mia mamma, mio fratello purtroppo dovuto appunto a queste al covid è da agosto che non vengo, non sono riuscita a venire a ottobre non sono riuscita a venire a Natale e adesso non si sa quando si riuscirà purtroppo a viaggiare di nuovo quindi spero il più presto, mi manca tantissimo Como perché io di estate ci vengo sempre a fare un giro sul lago di Como eccetera quindi posti bellissimi Londra è bella Antonella, è affascinante, Crystal Palace dove abiti tu ovviamente quella zona io l'ho vista devo dire bella zona, Londra è bellissima ma certo la città nostra, il lago ha il suo fascino giustamente poi salutiamo ancora Rodolfo, Mimma, Danila, Tiziano, Francesca che ci salutano, insomma tanti anche che stanno seguendo la nostra diretta Facebook e diretta radio ripeto oggi con Antonella Roletto collegati da Londra con le sue valutazioni, le sue similitudini all'Italia ultima cosa, Cara Antonella prima ovviamente di chiudere questo nostro collegamento chi torna in Italia o chi arriva dall'Italia all'Inghilterra? Cosa deve fare? Quarantena ovviamente? Tamponi? Sì 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 sì, prima di tutto prima di lasciare l'Inghilterra bisogna fare un test 72 ore prima qui i test se si fanno in caso perché bisogna viaggiare sono privati quindi bisogna pagarli e costano molto di più che in Italia quindi vanno dalle 100 alle 150 sterline e poi quando si arriva in Italia mi sembra che bisogna fare un altro test entro 48 ore, credo che continuano a cambiare le regole e poi bisogna fare la quarantena adesso non so se l'han torta, bisogna fare la quarantena anche se si faceva il test e poi bisogna fare la quarantena quando si ritorna lo stesso in Inghilterra e quindi insomma sono molto, esatto, ecco brava per semplificare un casino Lorenza dice facciamo cambio tu vieni a Como io mi trasferisco a Londra però Lorenza come hai sentito non è la cosa più semplice del mondo sicuramente e poi Rodolfo dice che c'è anche la squadra del Crystal Palace certo assolutamente sì dal punto di vista calcistico c'è anche la squadra del Crystal Palace che Ada ci chiede com'è il tempo lì, te lo chiedo, com'è il tempo in Inghilterra? Sì è freddissimo al momento, penso che sia come Milano perché ho visto le temperature noi oggi eravamo a quota zero stamattina insomma siamo arrivati allo zero insomma molto noi quattro gradi un po' di più però piovigina e nuvolo sono proprio giornate uggiose bruttissime in questo periodo giornate inglesi diciamola così, giornate inglesi Antonella sei stata molto cortese, molto carina come al solito un abbraccio da Como, dalla Brianza insomma a te, alla tua famiglia ovviamente nella speranza che tu possa davvero ritornare a Como o comunque da noi in Brianza qui appena possibile e magari poi torno a trovarci, ci farebbe davvero molto piacere buon lavoro intanto lì in Inghilterra e a Crystal Palace ovviamente e mi raccomando attenzione però Antonella, questo devo dire giustamente anche da voi mascherine, distanziamento, tutto quello che c'è Sì, sì, sì Perfetto, ormai è diventato tutto uguale Tutto uguale dappertutto Ce n'è di neve, ci chiede Rodolfo, ce n'è di neve? No, a Londra non c'è No, noi non ha ancora nevicato Non ha ancora nevicato, perfetto Quindi non so Giro dell'Europa con previsioni meteo della nostra Antonella Che saluto, ciao Antonella, un abbraccio davvero e grazie Un saluto a tutti quanti, buona serata Grazie, buona serata ad Antonella dall'Inghilterra